Siamo arrivati nel primo episodio di una nuova serie, serie sul gioco Life is Strange, gioco molto popolare che probabilmente già conoscete e già avrete visto da qualche altro youtuber, comunque io vi consiglio lo stesso di seguire questa serie perché ogni youtuber ha un modo diverso di approcciarsi a un let's play, a un walkthrough, quindi comunque io vi chiedo di vederlo. Direi che possiamo subito procedere, questo è un gioco che io ho già giocato e mi è venuta voglia di giocare nel momento in cui ho visto che stava uscendo, sta per uscire tra un mesetto, probabilmente verso fine agosto, un DLC, dovrebbe essere un DLC comunque sugli avvenimenti prima di Life is Strange. Pochi minuti prima, pochi minuti prima di registrare questo episodio, questo è successo, ho iniziato a registrare e all'improvviso il televisore è impazzito, quindi ho spento, aspettate un po', ora ho riacceso e spero che vada tutto bene. Non riprendo questo salvataggio, se no vi perdete l'inizio, quindi direi di usare il salvataggio 3. Prima di fare questo però vorrei vedere un attimo riguardo alle musiche e i volumi, anche perché vorrei mettere in realtà i dialoghi in italiano con i sottotitoli in italiano, così per voi è più facile seguire il testo e seguire anche me. I volumi comunque li abbassiamo, sia il volume generale sia quello della musica, se no non riuscire a sentirmi magari i dialoghi, li teniamo un po' più altri gli effetti direi, possiamo abbassarli quasi del tutto. Ok, per quanto riguarda la lingua io provo a mettere italiano, però non so se intende la lingua del testo di sottotitoli oppure se intende la lingua appunto parlata. Penso che intende sottotitoli perché dovrebbe essere solo inglese questo il gioco e io direi che siamo pronti per una nuova partita. Comunque io cercherò di parlare il meno possibile durante i dialoghi, durante le animazioni perché vorrei che questo gioco fosse quasi un film per voi, vorrei cercare di farvi appassionare. Dunque ragazzi, prima di iniziare vi chiedo di mettere un bel like, vediamo se riusciamo ad arrivare a 15 o a 20 like. Lo so che è una serie diversa dallo stile che avete visto di solito tra gli spacchettamenti vari, tra FIFA, la carriera, però vogliamo provare noi tre a portare nuovi format, Alessi ha portato appunto un nuovo outro, un nuovo let's play, io voglio iniziare quest'altro gioco, quindi spero che possiate apprezzare questo nuovo update del canale. Dunque io direi che siamo pronti per iniziare Life is Strange. Life is Strange è un'avventura narrativa influenzata dalle scelte del giocatore, le conseguenze delle azioni e delle decisioni avranno effetto sul passato, sul presente e sul futuro. Scegli con cautela. Beh io già l'ho giocato quindi comunque posso confermarvi che bisogna prendere delle scelte accurate e non a pensare molto. Prima animazione, subito il Dualshock che trema. Questa scena me la ricordo bene però, ve la faccio vedere magari in silenzio. Vedete vero come ho finito ragazzi. Mettetevi comodi e vedetevi la storia che è davvero un qualcosa di incredibile, che vi farà appassionare tantissimo. L'audio è predetimito in inglese, quindi i sottotitoli sono in italiano. Spero che comunque vi c'è da vedere il suo futuro. Come ho finito qui e dove è qui? Un po' di inglese lo capisco però voi, sono tutti quei quei quelli aiutano molto, aiutano anche voi. Dobbiamo arrivare al faro, questo mi ricordo bene, non c'erano altre vie per cui andare, ho provato, ragazzi si parla, non dico due anni fa ma sicuramente un annetto fa. Grafica non eccezionale ma di certo non brutta, ma ragazzi il punto di forza di questo gioco è tra i più conosciuti al mondo e la storia, perché la storia di questo gioco è una cosa di fenomenale. Noi ricordo il nome di lei, vediamo un po' questa stazione di un tornado, fangare cose. Mamma mia, maestoso questo tornado, sta spazzando via l'intera cittadina, attenzione qui. Oddio. Ok, era un solo, era un solo. Era un solo, meno male ragazzi, mamma mia. Questa è una foto, ovviamente sembra un po' di fotografia. Abbiamo vari oggetti. Questo è il diario, questo penso possa essere davvero importante. Vorrei andare all'inizio di tutto. Proviamo a leggere un po', vediamo. Ottobre, il mio mese preferito, amo guardare le foglie, cambiare colore e trasformarsi in piccole fiamme. Fa ancora caldissimo e non posso ancora tirare fuori i cappotti, le felipe e i film dell'urre. Presto Kate mi ha prestato... Presto? Ho sbagliato a leggere. Kate mi ha prestato un mese d'ottobre. Direi Bradbury. Ok, non mi sembra di leggere cose tanto importanti. Questa è la prima pagina. Qui festeggio perché è stata presa alla Blackwell, penso sia appunto questa scuola in cui si trova. Ok, qua si legge appunto che lascia la sua città Seattle per tornare ad Arcadia Bay, che è il nome della cittadina in cui ci troviamo in questo momento. Chloe, Chloe se non mi sbaglio era la sua migliore amica, comunque tutte cose che scopriremo. Ok, in realtà qui inizio a leggere ad esempio che la Blackwell, la scuola, fa schifo. Sembra essere un po' delusa da questa scuola. Ok, però è davvero lunghissimo da leggere. Vediamo un po' cosa altro abbiamo. Abbiamo quattro giocatori da esplorare. Noi ovviamente siamo Max. Mi chiamo Max Coilfield. E già dalla TN3 sapevo di voler fare la fotografa. Ho sempre osservato il mondo attraverso il mio obiettivo. Forse è un mio modo per far parte del mondo, ma a distanza di sicurezza. Comunque, appunto, siamo a una scuola di fotografia, sicuramente un corso di fotografia. Per qualche ragione mi hanno sempre attratto le vecchie macchine fotografiche analogiche, piuttosto che la tecnologia digitale. Amo molti stile e tecniche diverse, ma doro i selfie con l'istantanea. Non importa se la gente mi prende in giro, sono in buona compagnia, no? Io ora sono tornata nella mia città natale per studiare le fotografie all'Accademia Blackwell. E con una borsa di studio. Ok, quando me ne sono andato ho lasciato qui Chloe, la mia migliore amica per sempre. E vediamo che si è litigata, appunto, con Chloe. Andiamo poi Jefferson, non leggiamo tutto di tutti, perché non ci vuole tanto tempo. Magari voi, se volete leggerlo, io evito, perché comunque vorrei procedere veloce col let's play. Se volete leggere, mettete pausa al video e leggete un po' di informazioni, se vi interessa. Questa è Kate e lei invece è Victoria. Victoria, ragazzi, ci darà filo la torcere. Cosa altro abbiamo? Qui i vari episodi, qui i luoghi visitati, siamo solo appunto stati alla Blackwell. Gli sms da papà. Che ci dice, passa un diciottesimo compleanno speciale, per noi sarà sempre la nostra bambina, controlla il conto e lo spendere tutti in una volta. Qui c'è una chat con Kate. Ehi Max, sei in giro, con il sei. Mamma mia, che tumore. Sempre tutto ok, ti vai a prendere il tempo più tardi. Ok, a più tardi con il più, mamma mia, come chatta questa gente. Buon compleanno, Maxine. Maxine, 18 anni, incredibile. Sembra di dire che ti ho scritto per la prima volta, però le braccia. Baci. Warren. Warren probabilmente sarà il nostro ragazzo, il nostro migliore amico. Ti va un caffè dopo scuola, ho bisogno di una scuola per non studiare, per favore ricorda di guardare Necromantic sulla mia chiavetta. Ehi Mad Max, spacchiamo tutto, aspetta devo studiare per il compito di fisica, non ignorarmi. Noi invece l'abbiamo ignorato. Ci sta, facciamo soffrire un po' il nostro ragazzo. A dire di uscire, non viaggia. Poi cosa abbiamo? Abbiamo la scuola. Non posso credere che ancora ho questo pencilla. Potrei migliorare per il 21st century. Ma non mi piace anche fare questo per sbloccare la storia. Ci facciamo un bel selfie. Non ce ne frega noi che siamo in classe. Ci facciamo fare un bel selfie. Penso che Max ha preso ciò che i ragazzi chiamano un selfie. Un dottore per una meravigliosa tradizione fotografica. E Max ha un gifo. Of course, come voi sapete, la fotoportrata è stata popolare da l'inizio dell'inizio dell'inizio dell'inizio. La tua generazione non era la prima di usare immagini per l'espressione di selfie. Scusate, non potrei resistere. Il punto è rimasto che la fotografica è sempre stato un aspetto vital dell'articolo e della fotografia per quanto riguarda l'inizio. Ora Max, da che hai capito il nostro interesse e vuoi chiedere la conversazione, e puoi, per favore, diciamo il nome del processo che ha dato l'inizio all'inizio dell'inizio dell'inizio dell'inizio. Ok, dobbiamo rispondere. La prima scelta di questa storia. Lo stai chiedendo a me? Lo sapevo. Lo stai chiedendo a me? Ed ecco che Vittorio ha subito, ci fa adorare. Che non so cosa dovremmo fare. Ah, finalmente è finita. Adesso non ne potevo più. Ah, si può volare San Francisco per esempio il migliore della classe. Ho capito. Ok, già vediamo che in classe abbiamo le prime difficoltà, anche se in casa scuola sembra esserci già da un po'. Siamo in classe, siamo in classe. Ok, infatti, subito la prendiamo in giro e sono d'accordo perché Vittorio sa proprio come farsi odiare. Ok, qui mi do la classe di niente. Ok, vabbè, attrezzatura fotografica. Non ci concentriamo su queste sciocchezze. Piuttosto, vediamo un po' cosa significa questo video. Questo è un programma di editing, di editing foto. Ok, parliamo con Kate, parliamo con Kate. Ok, parecchio triste, devo dire... Kate looks so sad and quiet today. Siamo molto triste, vabbè, la pallina di carta lanciata la evitiamo. Le incisioni. Facciamo una foto alle incisioni, la nostra prima foto. Rachel Amber Forever. Ragazzi, Rachel Amber, ricordate questo nome, tenete in mente perché servirà molto. Infatti, diario, prima foto scattata, vediamo se la riesco a prendere. Ah no, ce l'ha, ce l'ha, appunto. Prima di metti tra le varie foto scattate nei vari episodi. Io vorrei cercare, se si dice, di platinare i giochi, ovvero di fare tutti gli obiettivi. Ma non so se ci riuscirò, se ci riuscirò. Ok, abbiamo altre cose probabilmente da leggere. Un taccino. Una macchina fotografica a 5.300 dollari. Non ci leggiamo ovviamente le qualità della macchina fotografica. Un taccino, ma inutile guardarlo. Penso che quella fosse l'unica foto che si potesse fare. Vabbè, dei vari libri, direi di fiondarci su Victoria e Jefferson. Chi vogliamo parlare? Direi al Jefferson. Scusami, signor Jefferson, posso parlare con te per un momento? Sì, scusami. No, Victoria, scusami. Non mi lascio una delle stelle future stelle di fotografia evitare la sua foto. Non avevo tempo, ho troppo lavoro di casa. Maax, sei un fotografico migliore che un lipo. Now, io know che è un drag per sentire un altro uomo che ti leggere. Ma la vita non ci aspettano per te giocare. Sei giovane, il mondo è il vostro, bla, 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 certo? Ma hai un dono. Hai il fievere di prendere immagini. Per fracare il mondo solo come la tua immaginazione. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Ok, ci ha detto varie cose. Con Victoria non penso possiamo parlare. Quindi, penso possiamo uscire dalla classe. TV, vabbè, figuratevi, ragazzi. Usciamo. Ok. Benvenuta nel mondo reale. Square Enix, appunto, produttore di questo gioco. E... Dovevo andare in bagno? Ok. Zitti tutti, cuffiette nelle orecchie. E parte la musica. Ragazzi, questo gioco vi fa emozionare tantissimo. Ovviamente vi chiedo di seguirlo e di mettere tanti mi piace perché vi farà appassionare, vi colpirà al cuore. È un gioco davvero fantastico. Sono varie persone, ma possiamo solo guardarle. Sinceramente, non perdiamo tempo. Questo è la nostra mamma vita. I love that picture of mom and dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. And you look totally fabulous, as usual. Grazie, è emozionante. È una stupida. Che ne è un videogioco, ragazzi? È un videogioco che può dare tanti insegnamenti. È toccante, è toccante. Dovrete vedere quello che succederà. Sembra una stupida, poi vedrete ciò che succederà da bene. Non guardiamo tutte le persone. Un poster di persona scomparsa. Questo lo guardiamo. È scomparsa una persona. Scomparsa, vi salutiamo. Tark, Alia Bey, data la scomparsa 22 abril 2013. 19 anni, metri 65, 50 kg. Capelli biondi, occhi marroni. Rachel Amber. Rachel Amber. Rachel Amber dove l'avete letto? Su quel tavolo che abbiamo fotografato. Rachel Amber Forever. Quella era la scritta che abbiamo fotografato. Il tatuaggio di un drago per colpaccio è una strada all'interno del colpo sinistro. Dunque, è scomparsa da Arcadia Bey, una nostra compagna di scuola, molto probabilmente, non penso di classe. Ok, sono varie cose, ma tutte stupidaggine. Vediamo più che altro. Negli ultimi dieci anni, i cambiamenti climatici hanno modificato la vostra dell'Origon, pesci e faune inclusi. Ciò ha contribuito al declino delle settore ittico dello Stato, soprattutto da Arcadia Bey. Combattiamo tranquillamente e seguiamo questa città storica. Arcadia Bey ha bisogno di piedi. Ok, roba da vendere, ma non ci interessa. Dovevamo andare in bagno, quindi, dato che non si può comunque parlare con nessuno. Vabbè, il posto della persona scomparsa è sempre le Cerembel, Rachel e il Bex. Bagno è qui dove ci volevamo dirigere. Ok, dobbiamo lavarci la faccia? Sì, penso ci laviamo un po' la faccia. Non sono giorni facili, dunque, a scuola si vede, ma anche da come viene trattata in classe si capisce che ha parecchie difficoltà. E strappiamo la foto. Un po' a caso, vabbè. Non ho condiviso questa scelta, c'è una farfalla. Quando la porta si chiama, la porta si apre, o qualcosa di così. Ok, ragazza, non hai una foto come questa ogni giorno. Ok, penso che li dobbiamo avvicinare lentamente. C'è una campana antincendio. Vabbè, noi prendiamo la foto della farfalla. Speriamo di riuscirci. Ok, ci siamo riusciti. Dovrebbe essere la seconda foto dell'episodio, del primo episodio. E attenzione che qui c'è un ragazzo nel bagno delle donne, penso. Non si è accorto di noi. Non si è accorto di noi, ma... Nascondiamo di noi. Parecchio stressato il ragazzo. Hmm, poco montato, direi. So, what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I've got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you mess with, you're a pistola. What are you doing? Come on, put that thing down. Vittura? Per averlo accusato di spacciare droga? You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Oh, mio Dio, è stata sparata. In effetti, anche col Dualshock che trema, mamma mia. Wow. What the fuck? Un'altra volta in classe? Vabbè. I was in the bathroom, he shot that poor girl. I held my hand and then I was back here. In poche parole, cosa ha fatto? Tornate a distruggimento. Almeno così si. Sì, però è gli stessi avvenimenti che ha già avvistuto. Oh, shit! Sì, vero. Non posso credere questo. Ha rotto la stessa. Ok, se sono stessa, potrei poter andare all'interno. Posso in realtà reversare il tempo? Perché Arbus? Perché i primi e le due per rivolgere il tempo? Stiamo riavvolgendo. Dovremo riavvolgere tutto? Ok, sì, così evitiamo di rompere la macchina. Ho fatto. Posso darmi un fotografo che ha perfettamente capito la macchina di tempo? Qualcuno? Bueller? Max, non ti preoccuparti. Non ancora. Non facciamo il selfie perché lui mi va a faccio il selfie. sanitore. If he does again, I know this is for real. A cell food. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming this. It's real. I can tell. So I can go back in time. Selfie expression. What if that girl isn't dead yet? Can I save her? se vogliamo saltare saltiamo questa animazione non mi sento bene devo andare in bagno tanto in nessuno dei due casi ci farà andare perché un professore devo andare in bagno quando un ragazzo dice bisogna andare in bagno e non si fanno andare è che nella realtà succede è proprio incredibile una rabbia assurda questa iconica che hai un terreno di formazione per realizzare delle persone le 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 persone premi R2 per riavolgere la conversazione ma perché dobbiamo farlo premi R2 per riavolgere velocemente ok possiamo saltare ah possiamo dare una risposta giusta inventato da un peccato chiamato Louis Daguerre circa 1830 qualcuno ha stato leggere anche bene come posizionale ottimo siamo riusciti a rispondere giustamente tornando in idro del tempo ragazzi riusciamo a ricordare le cose del passato e quindi possiamo dare una risposta giusta è suonata ragazzi e ora cosa che si corre in bagno e si corre nella poca ragazzi assolutamente che direi di andare speriamo che non ci fermi il professore cosa vuoi voglio partecipare ok basta saltiamo premio in le 1 per annullare l'ultima azione riavvolgendo il tempo e qui possiamo dire le cose che vorrebbe sentire ok quindi ci riprendiamo anche un po' la fiducia del nostro professore e mettiamo un po' in difficoltà anche i nostri compagni facendo vedere che anche noi ce la possiamo cavare ok ora premendo i due possiamo overci giudicemente corriamo 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 in bagno non perdiamo tempo con il suono ok 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 Ok, quindi vediamo tutto un gesto che abbiamo avuto una foto Ok un martello è un martello prima che un secondo prima un secondo che ce l'abbiamo fatta ragazzi ci siamo riusciti siamo riusciti da questo bagno ora daranno la colpa a noi spero di no abbiamo salvato la vita di una ragazza colfield si chiama max colfield che ora molto scolfield se non avete visto preso un brecchio una serie fantastica e vi consiglio di vedere come se possiamo parlare col preside penso proprio di fine ragazzi non so ora da quanto tempo sono dicendo penso almeno una pezzoletta che verranno dei episodi più lunghi però che possano piacere e possa fare appassionare come fa appassionare me denuncia nathan nascondi la verità è messo in maiuscolo per farci capire che una decisione importante allora denunciando nathan potremmo avere qualche difficoltà ma si può mettere pausa e si può anche salvare non penso si possa salvare direi direi ragazzi che l'episodio finisce qua vi lascio un po sulle spine vediamo se questa nuova serie vi vuoi piacere spero di sì se così è stato lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale da paranormal comics tutto ci ne ho un prossimo video bella non 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 Grazie.